collaterali, ma nemmeno troppo del Tocca T 2013, ormai è una tradizione queste delle narrazioni in gioco che si integrano con quanto succede poi nella strada, perché poi insomma gli ospiti che cerchiamo di invitare ogni anno sono proprio persone che, non dico che sono dei giocatori, però col gioco hanno dei rapporti molto forti. Quindi sicuramente Cristiano Cavina è uno di questi. Tanto è vero, credo che possiamo dirlo, almeno io lo dico, di cui presentiamo questo ultimo suo libro, uscito 15 giorni fa, che si chiama Inutile tentare e imprigionare sogni, o meglio Itis, dopo spiegheremo perché Itis, ma insomma si capirà, senza che essere in una biblioteca, fossimo in uno stadio potremmo dire che il personaggio principale, la voce narrante di questo romanzo, che è Baldo Creonti, potremmo dire uno di noi, Baldo Creonti è uno di noi, perché sostanzialmente è quello che probabilmente tutti noi siamo stati nel momento in cui siamo andati in una scuola superiore, dove viene ambientato questo appunto inutile tentare e imprigionare sogni, come dicevo prima, o più semplicemente Itis, che è la scuola, dove tutto quanto avviene, anche se, come succedeva probabilmente ai nostri tempi, non succedeva niente, però qualcosa accadeva. È una cosa interessante, di cui Cristiano Cavina in questo suo romanzo ci racconta, ci parla, con la voce appunto narrante di questo personaggio straordinario, che forse meglio di altri racconta anche cosa vuol dire andare a scuola. molti di noi appunto hanno vissuto in quell'età, in definita, che va tra i 15 e i 19 anni, e che possono rivivere, sebbene Cristiano, almeno dal mio punto di vista, è più giovane, anagraficamente di me, però insomma molte cose che ho letto in questo suo ultimo libro sono quelle che ricordavo benissimo, sembravano scritte ai miei tempi, che erano insomma prima che quasi che lui nascesse sostanzialmente, quando lui nasceva io uscivo dal liceo, quindi, però evidentemente una realtà come la scuola, o meglio la scuola superiore, è una scuola, una realtà immota, che non si muove, che non si ferma, non si... Buonasera, benvenute. Ecco, ben ritornata. Ecco, vedi, vedi Cristiano, che sei una star, lo sapevo io, sostanzialmente abbiamo fatto bene a invitarti. Già lancia la prestazione del calciatore. Qualcuno, forse anche lo stesso Cristiano, ha definito questo suo romanzo una sorta di giovane olden in salsa romagnola, invece io lo vedo piuttosto come il completamento di un libro uscito molti anni fa, non so chi l'ha letto, insomma è stato ristampato anche di recente dalla Feltrinelli di Domenico Starnore, che si chiamava Ex Cattedra, ovvero il mondo del liceo, della scuola, della scuola superiore, vista dai due punti di vista, di chi sta da questa parte della cattedra e da chi invece, come Cristiano, stava dall'altra parte. Io veramente, quando l'ho letto, ho detto finalmente ho avuto il completamento della vicenda, anche perché gli anni che tu racconti nel tuo libro sono immediatamente successivi a quelli che raccontava Starnone nel suo. Appunto, io dicevo questa cosa qua, i due lati della cattedra. Questo libro ha avuto una genesi strana, Cristiano ha sempre raccontato, è uno di quei narratori, preferisco appunto, niente di parlarlo, definirlo scrittore, narratore, perché lui proprio racconta, è un grandissimo fabulatore, è un grandissimo, anche stanzionci di storie che nascono da questo suo piccolo, grande microcosmo che è Casola Valsegno, dove è nato e dove è cresciuto, dove tuttora vive. Però ecco qui, magari va un attimo fuori da Casola San Valsegno, torna tutte le sere, ma tutte le mattine ne parte di nuovo. Il mondo che ci racconta è quello che avviene attorno a questo appunto, Itis, alberghetti, una scuola che esiste realmente nella vita, che Cristiano ha realmente frequentato, come le vicende raccontate da Starnone, sono le vicende non inventate, ma quelle che gli capitavano quando faceva il professore. Ecco, appunto, si trova appunto di raccontare queste storie che ha vissuto anni fa all'alberghetti. Appunto, dicevo che è una genesi strana, perché è un... tu hai detto che questa storia, sapevi sempre, fin dal momento in cui sei uscito, sostanzialmente grazie anche a una professoressa di italiano che avevi, hai deciso in qualche momento, oppure ti ha spinto in qualche modo a essere narratore, però tu una volta che sei uscito da questo odiceo hai detto io sapevo che sarei tornato a scrivere le vicende che ho vissuto in quegli anni. Un libro che arriva dopo altri, li possiamo vedere lì, li potete trovare anche sul banco, quindi è una storia che magari è nata quando lui non era ancora un narratore, è cresciuta, altri libri sono usciti prima, oggi trovo questo complimento e dobbiamo dire anche grazie a Claudia Taroro, Marcos Zapparoli, Marcos Marcos, che erano nostri ospiti un anno fa e con la quale, casa editrice, cerchiamo come toccatie di avere una collaborazione, appunto, e quest'anno è arrivato Cristiano e grazie appunto anche a questi editori, editor particolari, siamo arrivati a leggere questo libro. Un'altra storia particolare di questo libro è che non ha avuto degli editor professionisti, ma ha avuto degli editor occasionali, anche questa è stata una bella esperienza, ovvero dei studenti di liceo che hanno preso il suo libro mentre era ancora in fase di scrittura, l'hanno letto, analizzato, l'hanno probabilmente corretto, ma adesso ci lo dirà meglio Cristiano, l'hanno visto e poi alla fine l'hanno in qualche modo promosso e fortunatamente noi, perché davvero mi capita spesso di presentare dei libri, ma questo è uno dei libri che mi ha più divertito da anni e anni. La sua scrittura di Cristiano è scoppiettante, è piena di invenzioni, di personaggi straordinari, troviamo anche dei personaggi veri che lui rende straordinari ed è questa una sua capacità. Si legge tutto d'un fiato, non è un giallo, ma è un racconto, ma ha la capacità di buttarti dentro fin dalle prime pagine nella storia che ci vuole raccontare e da queste parti finché non arriviamo alla fine noi non usciamo. Ecco, probabilmente è successo la stessa cosa a questi ragazzi che forse non avevano una sirena di fabbrica come campanello all'inizio o una sirena antiaerea come campanella finale come capitava a Cristiano ai tempi dell'ITIS, però insomma sapevano di che cosa stava parlando in quanto erano studenti che vedevano il mondo dall'altra parte della cattedra. Ecco, com'è stato Cristiano? Com'è stato Cristiano? Confrontarti con questi ragazzi... Com'è questo? Preferi? C'è il giro, aspetta. No, te lo ho dato da adesso. Dai. Ecco, mi ha fatto la staffetta. No, mi ringrazio di avermi invitato in questa bellissima città, in questo bellissimo... volevo venire con Giovanni, te l'ho detto, ma ha iniziato la scuola l'altro giorno, la prima elementare, allora oggi, stamattina, ieri ho detto, ma lo porto con me a Verona, c'è questa cosa bellissima, dei giochi antichi, e lei mi ha fatto notare che forse era meglio dopo quattro giorni evitare di fare buco, come facevi io, di non presentarsi a scuola dopo quattro giorni, sarà per il prossimo anno. No, questa cosa con gli studenti è stata buffa, nel senso che è stata molto bella, a parte che mi ha consentito di essere... di fare l'unplain, nel senso che non solo ho preso nella mia vita tanti brutti voti dai professori, ma sono riuscito a prendere anche brutti voti dagli studenti, che non capita a tutti, perché quando abbiamo portato il manoscritto ai ragazzi del liceo, era una prima stesura. Ora io sono cresciuto in un'altra lingua, nel senso che io sono cresciuto con i miei nonni materni che non parlavano italiano, parlavano romagnolo, il dialetto, e quindi mi hanno insegnato l'italiano a scuola. E quando scrivo il dialetto si insinua nelle mie pagine e vengono fuori delle castronerie veramente inesistenti, con verbi, parole, modi di dire che in italiano non esistono, per dire io scrivo come tutti i romagnoli, io dico ho rimasto, che non esiste in italiano, no? E quindi quando sono arrivati questi... sono andato lì col mio libro, c'erano i ragazzi, c'era praticamente il manoscritto, era tutto sottolineato in blu, ho detto oddio, vado male anche qui se mi interrogano, no? Fortunatamente non mi hanno interrogato, però mi hanno fatto notare che usavo verbi e... verbi sballati, modi di dire che non esistevano, quindi ho preso anche dei 5 anche lì, però è stato bello perché è curioso, sono ragazzi, a parte che hanno esordito dicendomi, ma signor Cavina, anche se è vecchio, lei ha detto grazie mille, proprio subito, mano affondato, no? Anche se è vecchio, è abbastanza simpatico, ho detto grazie. No, è stato bello, poi in realtà non hanno fatto tutto l'editing del libro i ragazzi, hanno fatto solo, lavorato sulla prima studio, è molto bello perché c'erano molto appassionati, poi non hanno solo corretto il libro, hanno anche pensato alle copertine, gli hanno insegnato come si vanno impaginati, tutto il lavoro che c'è dietro, quindi è stato molto, molto, molto divertente, molto simpatico. A me piace molto andare a scuola, vado più spesso a scuola adesso che non dovrei andarci di quando ci dovevo andare, perché poi se non è per fare l'editing come quest'anno è per parlare dei miei libri, che in molte scuole d'Italia sono diventati libri di narrativa, li usano come libri di narrativa per la scuola. Infatti quando vado c'è sempre qualcuno che mi dice ah, però io ho dovuto fare il tema sul tuo libro, mi rimproverano, dico scusa, mi dispiace, non l'ho fatto per quello. Però mi piace molto, mi piace molto perché poi io sono un chiacchierone, sono cresciuto in un bar, quindi anche lì con quei ragazzi sto lì come se parlassi con i miei amici. Poi loro hanno, anche questi del De Orca hanno fatto l'editing, questa versione che gli dicono incontrerete l'autore, io me l'immagino anche quando facevo la scuola io, quando parlavano dell'autore io immaginavo Manzoni con i basettoni, con lettina mi datano, poi arrivi io col piercing, la felpa, loro mi vedono e si rilassano perché dicono sto qui è messo peggio di noi, quindi è particolare. Però è stata una bella esperienza, è stato interessante, ho mandato anche spunti, poi il libro era abbastanza diverso, non c'era ancora tutto il finale, erano proprio i primi capitoli, però è stato molto interessante. A proposito di scuola, gran parte dei personaggi che sono nel libro sono i tuoi veri compagni con cui ti incontri ancora radicalmente. Credo che uno che ha fatto uno dei più bei commenti, almeno dal mio punto di vista del libro, è Figna che ha detto un bel regalo fatto alla scuola, intesa come Itis, al Berghetti e a chi l'ha frequentata. Ecco, le reazioni invece dei professori? No, guarda c'è, Figna mi fa ridere perché ho lasciato il nome, poi glielo ho detto prima, quasi tutti i professori, i miei compagni, gli ho telefonato, ho detto guardate ho fatto un libro di quando facevano Liti, certi personaggi sono inventati, non sono professori veri. Altri sono quelli veri, ho lasciato il nome, glielo ho chiesto prima, cioè al prof Baladelli che era il mio prof di impianti, gli ho telefonato anche perché c'è una scena un po' che poteva essere imbarazzante, perché io la prima volta che, la prima lezione che ho avuto Liti, sono entrato a scuola e ero in ritardo, perché la corriera da caso, la Nara Imola era in ritardo, sono entrato a scuola, ho aperto la porta e sentivo che il professore spiegava, ma non vedevo il professore, e ho scoperto dopo, cinque minuti, dove era il professore, lui faceva lezione dietro la cattedra, sdraiato su una brandina, si vedeva solo la mano dietro ogni tanto, perché aveva un delicato problema all'emorroio, però a lui gli piaceva talmente tanto insegnare che lui faceva lezione su sta brandina sdraiato, allora ho detto, prof, parlo di quando aveva questo problema e Baladelli mi ha detto, fai bene, assolutamente, perché io quando vi dissi che avevo quella cosa, perché lui nel libro c'è Baldo Creonti, racconta del suo prof che parla delle visite che faceva per questo problema, questo medico che c'era a Imola, che era famoso perché era alto due metri, quindi aveva delle dita che erano insomma in proporzione, quindi noi ridevamo lì, cioè io ve lo dicevo perché la prevenzione è importante, mi ha detto, puoi scriverlo basta che metti che la prevenzione è importante, ha detto, prof, adesso non so se nel romanzo riesco proprio a metterla così, però ci provo. Figna fa ridere perché l'altro giorno l'ho visto, mi ha detto, sono andato alla festa della birra, lì vicino a Imola, a Chiavica si chiama il posto, mi ha detto, appena sono arrivato tutti mi hanno dato, ah figna ti facevi le canne, abbiamo letto il libro di Cavina. Il problema è che Figna adesso lavora nella squadra mobile, cioè un poliziotto, infatti mi ha detto, prima che uscisse il libro, io ci tenevo che ci fosse il libro, però sono andato dal mio superiore, gli ho detto, guardi Cavina è uno che inventa, che crea le cose, perché sta cosa delle canne e del fatto che, e comunque loro sono contenti, i miei prof penso di sì, a me capita spesso scrivendo cose della mia vita, che poi comunque sono romanzi, non è proprio esattamente la mia vita, però che ci assomiglia molto, mi capita quasi sempre che qualcuno nel libro vede in un personaggio qualcuno che conosce ci rimane male, tipo quando uscì alla grande c'era un personaggio diciamo l'antipatico della classe, un po' ricco così, e una mamma di un mio amico ha riconosciuto in lui il figlio, e si arrabbiò molto, suo figlio era contentissimo, gli assomigliava dicono qualcosina, ma era palese che non era lui, lui infatti non mi ha mai detto niente, rideva, era contento, invece sua mamma si arrabbiò molto, solo che lei era la direttrice delle scuole di Casola, di Riole Casola, e io praticamente per sei anni, anche molti libri dopo, sono passati sei anni, finché lei non è andata in pensione, io non ho mai potuto parlare con i ragazzi delle scuole di Casola, perché lei non voleva che ci andassi, era andato tipo fino in un liceo in Norvegia, e il più lontano era all'epoca, tipo a Mazzara del Varlo, a Sud, il liceo in Norvegia Nord, e non ero potuto andare a 150 metri dalle case popolari, perché lì non si poteva, adesso io ovviamente non è che scrivo per prendere in giro qualcuno, quelli che ho sentito erano tutti contenti, Baladelli era contento, ho fatto un incontro a Imola, che è molto imbarazzante, perché di solito io non presento i libri a Casola, quindi dove sono ambientati i miei romanzi, perché mi imbarazza questa cosa, quindi non presento mai i libri nella città, nel posto dove sono ambientati, solo che sto libro per metà è ambientato a Imola, e a Imola ci doveva andare, insomma, e c'era il mio prof di elettrotecnica, che c'è anche nel libro Camorani, e lui era contento così, alla fine dell'incontro mi ha detto, ma sai Cavina che dopo questo incontro è stato divertente, la gente si è divertita, ho cambiato opinione su di te, ho detto, ah grazie proprio, prima pensavo proprio che fossi zero, no? Ha detto, no no, ma anche prima un pochino, sì, però mi sei simpatico adesso, se state a scuola insieme cinque anni, alla fine ce l'ho fatta, no, però sono, penso siano tutti, a parte i problemi col commissario della questura di Figna, sono tutti contenti, insomma. Le mogli dei miei compagni sono più contente, perché mi dicono tutti, guarda, maledetto, mia moglie ha letto il libro e ha riso tutta notte, no? Poi mi ride ancora dietro, che mi dice, hai il collo da pellicano, queste cose così, no? Come dicevo prima, una delle capacità di Cavina è quello di metterci dentro subito nella storia che ci vuole raccontare, è un grande narratore di storie, no? A volte appunto scegli anche dei particolari esilaranti. Quando uno di questi, non scopro nulla di particolare, quindi non vi tolgo il piacere della lettura, della sorpresa, riguarda anche appunto Inutile tentare a imprigionare i sogni, ed è quando lui deve andare a scuola, appunto passa dal biegno al triennio, va ad alberghetti e sua madre gli dà, in un mondo, in un'epoca in cui tutti avevano degli zainetti griffati, più o meno griffati, gli dà il tascapane, il suo tascapane. No, volevo dire a Cristiano questo, io ho apprezzato molto questa scena qua, sono molto solidale con tua mamma, diglielo se lo vedi, perché anch'io andavo a scuola così, erano altri anni. Ecco, però posso immaginare in effetti un imbarazzo che puoi avere, cioè mentre ai nostri tempi erano, se avevi il zainetto ti guardavano male, capisco benissimo la cosa, volevo dirti questo messaggio, ma comunque questa scelta del tascapane, che presumo sia assolutamente vera, è stata veramente una delle chiavi di lettura. Conservo ancora il tascapane in cantina però, l'ho portato già abbastanza, l'ho sepolto nelle catacombe in cantina, perché l'ho già dato col tascapane. Beh, una delle cose che poi, del resto, io all'inizio, insomma, sono andato a scuola come Baldo Creonti nel libro, semplicemente perché rappresentavo tutti i sogni di mia mamma, nel senso che mia mamma non l'ha mai fatta studiare i miei nonni. Lei in un'altra epoca fu fatta nascere al solo scopo di prendersi cura di loro il giorno che fossero diventati vecchi, no? Era la più piccola, non la facevano mai uscire, lei era praticamente un po' la servetta di casa. Gli fece giusto un torto, perché la prima volta che mia nonna rilasciò la strada libera per uscire, andò a raccogliere le pesche per i fondi, per il giornale della parrocchia, mia mamma ebbe la buona idea, la prima volta che usciva da solo in casa, di farsi mettere incinta da uno sconosciuto, che l'ha abbandonato, praticamente l'ha mise incinta e poi tagliò la corda. E quindi si strinse ancora di più il gioco di mia nonna su mia mamma e io mi sono ritrovato a mio malgrado non solo col tascapane ma proprio a scuola, nel senso che era già previsto, davo per scontato che io dovevo andare a lavorare. Fate le medie e basta. Io a 11 anni lavoravo già nel bar di mio zio quando facevo le medie e sapevo che avrei continuato a lavorare e poi era anche quello che volevo fare. Solo che mia mamma ha questa cosa che hanno le mamme ogni tanto, gli dicono le cose sul figlio per non farla star male e lei crede che siano vere, nel senso che i professori l'hanno talmente riempita per tutte le elementari e le medie di sta frase bellissima per me che è, non è stupido ma non si impegna. E mia mamma ci credeva che non fossi stupido, io gli dicevo no mamma guarda che sono davvero stupido, non è che non mi impegno perché proprio non mi viene. Oppure mi ricordo che alle medie, in prima media, gli disse un professore dopo il primo, non so se era trimestre, semestre, gli disse se si impegnasse potrebbe prendere ottimo. È stato uno dei problemi della mia vita perché io vedevo quando torno a casa mia mamma aveva gli occhi che luccicavano di quest'ottimo, gli avevano dato tipo una sorta di lingotto d'oro a forma di ottimo e lei proprio per tutte le medie mi diceva impegnati che prendi ottimo, io gli dicevo mamma è una bugia, non è vero che se mi impegno prendo ottimo, non sono buono no? e i professori dopo però glielo dissero lo mandi a lavorare che risparmia tempo, mia mamma che non aveva studiato ha riposto su di me tutti i suoi sogni accademici e mi ha iscritto senza dirmi niente all'istituto tecnico dove poi mi ha spedito non solo a testa bassa ma affibbiandomi anche il suo tascapane di quando era capo scout, che era rimasto incinta fra l'altro quando era capo scout e quindi era poi insomma so che uno si immagina che magari quando scrivi delle storie devi raccontare o puntare a chissà cosa, avere visioni del mondo o messaggi molto più potenti, io ho sempre scritto per, neanche scritto per raccontare storie insomma e soprattutto per salvare cose della mia vita senza pensare che piacessero ad altri che a me, il fatto che io pubblicho è puramente fortuito nel senso che non ci ho mai fatto una malattia e quindi io questo libro l'ho scritto per salvare quella cosa lì, celebrare i miei amici, figna, i miei professori, l'ambiente di una scuola che è voglio dire non solo mi iscrive a scuola mia insaputa, mi iscrive a liti e io mi faccio cinque anni in una scuola che ci sono 600 studenti maschi e nessuna femmina, tanto vale che mi diceva va in clausura e io andavo meglio anche perché ero più o meno al limite quando ho scelto le superiori, mia nonna era ancora viva e mia nonna mi aveva, ero ancora sulla strada per diventare il primo papa delle case popolari perché mia nonna era una cattolica ultra ortodossa e io a cinque anni recitavo tutte le stazioni della via Crucis a memoria, sapevo tutto, proprio citavo, sapevo tutte le cose a memoria, a Casola c'erano i frati Capuccini, c'era un convento di suore, le suore Ursoline di Santa Dorotea e poi c'era un convento di Capuccini. Quando mia nonna iniziò proprio a tenermi lì con la testa per farmi diventare il primo papa delle case popolari, io andai a vedere, oltre a servire tutte le messe, mia mamma mi portò a vedere il primo film della mia vita al cinema di Riolo Terme perché a caso lo era chiuso, non c'era il cinema, e mi portò a vedere il Guerre Stellari, il Guerre Stellari originale. Quando vado a scuola devo dirlo, qui invece posso dire il Guerre Stellari sappiamo tutti cos'è, mentre nelle scuole devi dire, perché c'è tutto il genere. Esatto. E non so se avete presente i Guerre Stellari, ci sono i Cavalieri Jedi, no? Che hanno spada laser. La tunica è uguale a quella che avevano i frati Capuccini, cioè è proprio lo stesso colore. E io pensavo, se divento frate Capuccino, mi danno il crocifisso laser, no? Avevo questa idea che sarei diventato un Capuccino Jedi, una cosa del genere, e ci credevano. E quindi, niente, io queste cose sembrano poche, ma volevo salvare quei momenti lì e raccontare questa cosa qui di un ragazzo che si trova all'improvviso completamente in un altro posto. Io fino a che non ho iniziato a giocare a pallone col Casola a 12 anni, non ero mai andato via da Casola. La prima volta che sono uscito da Casola con la simca del nostro accompagnatore per andare a giocare a Faenza, lui che era già un signore più anziano, aveva 60 anni, Benito Nofferini, detto Gendi si chiamava, che noi abbiamo il soprannome là, e lui ci restavamo fermi dieci minuti a vedere il semaforo, perché a casa non c'erano i semafori, io non avevo mai visto un semaforo del vivo, l'avevo visto nei telefilm, no? E quindi diciamo, poi che sboroni a Faenza, guarda, giallo, rosso, verde, e poi cambia anche, no? E quindi un po' l'occhio di Baldo Creonti, anche un po' l'occhio di un ragazzo così che si ritrova lì, che ha un suo modo di vedere le cose, ha certe sue fisse e lo racconta, ma l'ho scritto semplicemente per salvare quelle cose lì, non perché avevo chissà cosa da dire. Poi magari ci sono tante cose dentro, ma quello è indipendente dalla mia volontà. E Baldo Creonti è un diverso, tra virgolette, non solo per il tascappane della mamma, ma perché anche si veste da Dylan Dog, mentre tutti i suoi compagni, o gran parte dei suoi compagni invece sono dei cloni di Jim Morrison, anche questa è una cosa... O dei metallari. O dei metallari, sì. Anche questa non è male, come è detto. Ho mandato a Claudia, mentre scrivevo il libro, la foto originale della camicia che avevo. No, io in realtà ero un metallaro, fino alla seconda superiore. Poi pensavo che alle ragazze piacesse il metallaro. Poi ho scoperto che alle ragazze piacevano i bei ragazzi, soprattutto quelli che avevano un po' di carattere, cosa che io non avevo. E mi eri illuso che se avessi cambiato il look, avrei forse... insomma, mi sarebbe potuto capitare che qualche ragazza si interessasse... Adesso qui mi sono messo in una frase piena di congiuntivi e condizionali. da cui non uscirò mai vivo. Devo parlare come nei corsi di scrittura, scrivi come mangi. Niente, io leggevo Dylan Dog, mi vesto come Dylan Dog, un paio di jeans e la camicia rossa. Solo che non avevo una camicia rossa normale, non so di che materiale è fatta, una camicia normale di cotone, così. Avevo questa camicia rossa di flanella, pesante. E come Baldo Creonti mi riempiva di... io ero una bomba elettrostatica, nel senso che quando me la toglievo facevo le scintille proprio, perché avevo sempre i peli dritti. Forse anche quelli capelli mi stavano tutti sparati, perché ero proprio una dinamo ambulante. Infatti l'IT elettrotecnica era il coso giusto, infatti Baladelli diceva davvero. Poi lì ho messo che se attacchiamo i cavetti a cavina diamo corrente a tutti i laboratori. In realtà la frase la più precisa era se gli infiliamo due cavetti nel culo riusciamo a fare illuminare tutta l'IT, però non l'ho messa nel libro perché mi sembrava un po' esagerato. E quindi avevo quel look lì, nessuna ragazza si è mai accorta di me giustamente, anche perché Dylan Dog era disegnato sulle parvenze di Rupert Everett, molto figo, molto misterioso così. Io ero disegnato sulle parvenze della famiglia Cavina che insomma non è che mai in secoli non ha mai, a parte mio figlio Giovanni, non ha mai prodotto dei gran gioielli. Poi ero molto più grosso da adesso, ero 100 kg, insomma, molto di più. E infatti mi chiamavano il Dylan Dog Grasso, quindi all'IT di Imola c'erano 50% cloni di Jim Morrison made in Cina, proprio fatti male. E 50% di metallari coste felpe, grondanti sangue, così, e poi c'era un Jim Morrison grasso che ero io lì in mezzo. Ma in questo Valdo mi assomiglia molto, devo dire. Ci sono molti personaggi in questo libro di cui è assolutamente impossibile non affezionarci. Altri di cui non mascheri la tua antipatia e che noi condividiamo come lettori, ma tra i primi da quelli a cui non ci si può non affezionarsi c'è Alvaro, Stefano, detto Maria. Sappiamo, possiamo immaginare perché, però qui va letto quello che ha scritto Cristiano. Alvaro e Stefano non rispondeva se non lo chiamavi Maria, non è che fosse una donna o che gli piacessero gli uomini, era un tipo di persona che aveva già superato tutte quelle sciocchezze tipo i rapporti tra i sessi. Le misere e incombenze della vita quotidiana non lo interessavano, se ne era distaccato, aveva fumato pure quelle. Il nome Maria aveva a che fare con quello che rollava nelle Rizzagold, nelle gabinetti, che poi era l'unica cosa che in fondo gli piacesse davvero. Vado a prepararmi la merenda, diceva appena suonava la campanella, tirando fuori la cartina dalla tasca dei jeans. Non riesco a stare nemmeno a leggendolo, sto rileggendolo questa frase qua. Ma la bellezza sua non è solamente questa, è perché io ho interpretato questo come una specie di sciamano, davvero sciamano della classe. Lui riusciva a capire le cose, forse grazie a quello che si rollava nei bagni, prima che queste accadessero. Era assolutamente una cosa straordinaria, però dopo alla fine scopriremo che è anche un grandissimo personaggio, ma alla fine arriviamo alla fine dell'incontro. Quindi è veramente una delle persone più personaggi. C'era Maria tra i tuoi compagni? Si, si chiamava Alvaro Stefano, però si chiamava un nome molto simile. Devo dire che Maria non l'ho sentito da quando ho fatto il libro, non so neanche se l'ho letto. Si è un po' ritirato vita privata da tanti anni, è sempre stato un po' particolare Maria. Fra l'altro all'esame di quinta superiore mi si presentò, io dovevo andare a parlare, a fare l'esame orale e avevo portato primo nella storia dell'Iti una tesina su Pasolini, all'Iti. C'era la mia prof di italiano che svolazzava giuliva perché avevo portato Pasolini, era molto contento. E Maria mi ha detto guarda rilassati prima di andare a parlare e tiro fuori sto pacchetto di Malboro, mi ricordo ancora. Io lo pescai pensando fosse una sigaretta, aveva preparato un pacchetto di spinelli, aveva un pacchetto da 20 spinelli già pronti e un fiaschetto di grappa dentro per rilassarsi. Ho detto Maria non rilassarti troppo perché poi devi parlare quando vai lì, non è che... No, no, lui era...